adesso dobbiamo un attimo dire qualche parola di chiarezza innanzitutto in questi giorni io l'avevo detto c'era un po un'attenzione eccessivamente spostata sull'ordinanza che doveva fare l'amministrazione comunale io domenica mattina ho sentito sia il prefetto che quest'ora e ci vediamo nelle prossime ore con un comitato però voglio chiarire due aspetti quando si arriva a configurare una scena criminale come quella dell'altra volta quelle un tema che attiene nel nostro paese esclusivamente all'attività di forze dell'ordine e magistratura che hanno nella nostra repubblica il compito di prevenire da una parte e di individuare quindi reprimere azioni criminali quindi noi daremo tutto il sostegno così come abbiamo noi il sostegno da parte loro perché veramente a napoli c'è un clima istituzionale davvero ottimo quindi non esiste in alcun modo che si debba fare uno scarico a barile non lo si fa quindi ognuno si sta assumendo fino anche delle responsabilità certe volte eccessive però non pensano che nessuno pensi che quando si va a delinquere di quella portata cioè ci sia un ruolo che possa avere diciamo altre amministrazioni che non siano quelle deputate all'ordine pubblico alla prevenzione alla repressione un altro tema che siccome giustamente si è aperto un dibattito dopo l'ordinanza chi critica qualcosa che dice ma perché questo luca e non quell'altro voglio dire un'altra cosa molto chiara l'ordinanza ha una funzione sperimentale cioè se l'ordinanza funziona noi non solo la confermeremo faremo i regolamenti ma addirittura nei prossimi giorni la potremmo estendere quindi anche in altre aree ma se l'ordinanza non dovesse funzionare l'ordinanza non verrà riproposta cioè l'ordinanza vuol domandare dei segnali dei segnali a degli al come dire a una collettività varia che deve avere la capacità di recepirla dove ci sono delle regole ci sono delle sanzioni ci sono come dire anche degli indirizzi in qualche modo vengono dati vediamo se funziona perché quando invece c'è una scena come quella di quella notte quella è una scena sinceramente che con la stragrande maggioranza dei fruttori l'amo vita non ha niente a che vedere come ne possiamo pensare di scaricarla sul commerciante quella è una scena del crimine cioè sono due bande che si incontrano in un luogo e si sparano quello è un fatto criminale che è accaduto ai baretti di chiaia poteva accadere un altro quartiere della nostra città quindi evidentemente si pone un tema cioè di maggiore quello che ho detto sempre dall'inizio controllo anche notturno da parte le forze di polizia e diciamolo con una certa nettezza chi è che alza sempre una voce forte e chiara sul tema che in questo paese non si investe a sufficienza su sulla sicurezza compresa quella di questi temi ed è il tema anche che parliamo delle norme che devono arrivare dal parlamento perché se non arrivano le norme per esempio vi dico da parte della polizia municipale noi facciamo una fatica enorme voi non so se avete notato nell'ordinanza sindacale io ho dovuto mettere addirittura un punto che la polizia municipale le forze dell'ordine garantiranno i servizi mobilità proprio perché loro non avendo le risorse economiche per poterlo fare io in qualche modo l'ordinanza sindacale trovo il modo diciamo una specie di scamotaggio normativo per cercare di metterle in condizioni di garantire tra mille difficoltà anche con i piani di riequilibrio e predissesti la possibilità di stare la notte ma lo stesso tema chi è in questo paese che più volte ha detto in questa città non cacciamo il paese che anche ci vogliono più mezzi e risorse per le forze dell'ordine perché ci sono poche autovetture di notte e mi pare che una voce un po isolato non è compito mio ma io lo so perché so perfettamente che la polizia fa uno sforzo enorme lo fa in condizioni difficili fanno attività incredibili perché devono fare attività investigazioni e investigative poi sono le partite e poi c'è l'ordine pubblico e poi ci sono i cortei e poi sono le notti quindi si deve investire altrimenti noi quel controlla quella cosa non accadono se comunque c'è un maggiore anche controllo del territorio che significa prevenzione significa vedere significa osservare se ci sono delle attività criminose che si reiterano significa individuare significa arrestare significa essere rapidi in queste attivazioni cioè quindi teniamo un po distinti gli ambiti il comune ha fatto la sua parte la monitora continuerà a farla cercherà di impiegare al massimo la polizia municipale se c'è da allargare le zone di intervento lo faremo ma fin quando non cambiano le leggi della repubblica italiana queste cose che sono accadute l'altra notte non sono altri che devono cercare di prevenirle e sono altri che devono cercare rapidamente con tutto il nostro sostegno di individuare i responsabili e come dire consegnarli alla giustizia altrimenti cambiamo veramente le istituzioni sindaco c'era un passaggio che mi ha colpito lei diceva possiamo anche a breve eventualmente pensare di allargare l'altra zona se questa ordinanza dovesse funzionare sia in fase di sperimentazione quindi vedremo o si aspetta comunque la fine dei no 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 noi vediamo monitoriamo e vediamo un po che funziona me non convince l'idea di un ordinanza generalizzata in tutta la città perché non non sarebbe non avrebbe le caratteristiche di un ordinanza che può essere eseguita nel dettaglio perché le forze in campo sono quelle se tu le quindi noi ci siamo concentrati sulle zone dove ci sono stati più casi evidenti dove si è discusso di più ci sono state più problematiche ecc quindi sicuramente se la cosa funziona e ci sono altre aree critiche noi non abbiamo problemi ad estenderlo in altre parti però ripeto non io credo che se non ci sta un senso di responsabilità forte un po da parte di tutti come ho detto sin dal primo momento c'è il rischio insomma che non è quella la strada per portare a una soluzione di diverso tipo quindi vediamo un pochino che cosa succede però un segnale importante c'è perché là ci sono alcuni dividiti ci sono alcune regole ci sono alcune sanzioni del resto anche oggi in consiglio comunale qualcuno dava atto che in alcune parti della città già le cose vanno un poco meglio quindi evidentemente laddove si è coniugato ordinanza e controlli di polizia le cose migliorano io confido in questo ordinanza regole senso di responsabilità e più controllo da parte delle forze polizie se si mettono in campo queste cose indipendentemente dalle aree vedrete che le cose andranno andranno sicuramente a migliorare e poi c'è un tema complessivo che attiene napoli anche altre città la base questo a me preoccupa molto indipendentemente dal ruolo di sindaco che ho si sta abbassando molto la soglia di età di commissione di reati cioè stiamo andando certe volte a reati commessi anche da infra 14 anni cioè significa anche dei ragazzi non punibili ragazzi armati a 12 13 anni e questo non solo nei luoghi della movita passa a girare in alcune parti della città questo è un tema che deve riguardare veramente tutti perché non è più un tema che fai l'ordinanza è un tema che attiene la comunità che attiene le scuole le famiglie le amministrazioni locali le municipalità le forze dell'ordine la politica la società è un tema un po più basso su cui forse bisogna interrogarsi tutti quanti perché li vediamo anche noi per strada sperimentazione per sperimentazione c'è oggi chi fra i comitati si si lancia a chiedere una un po più radicale se vogliamo tipo chiusura a mezzanotte per adesso non la tocchiamo tra l'altro su fine settimana alla fine settimana non vi sfugge che dobbiamo anche dare il tempo alle forze polizia di attuarla tra l'altro sabato non vi sarà sfuggito che tra galleria laziale partita e il presidente della repubblica la mattina altre cose c'è stato un impegno massiccio delle forze così diamo un po di tempo a me l'idea di anticipare l'orario non mi convince per nulla però dico molto sinceramente insomma napoli una capitale internazionale e questi problemi ci sono in tutte le capitali bisogna lavorare io confido molto in un controllo di polizia come dire fatto con accuratezza con attenzione confido al senso di responsabilità dei titolari degli esercizi commerciali perché non hanno alcun interesse che le cose si potessero si possano inasprire confido anche che possano mettere in campo delle azioni aggiuntive come può essere anche personale che svolge funzioni di vigilanza di custodia confido anche sul senso di responsabilità della maggioranza delle persone che poi sono i fruitori della movida noi faremo la nostra parte come vi ho detto prima non era scontato che io mette la prima volta che viene messo in un'ordinanza l'ordine alle forze di polizia in particolare polizia municipale di garantire mobilità soprattutto nelle zone dove il problema è più serio sulla mobilità che sono bagnoli anello falco quindi su questo incentiveremo anche in altre zone l'orario sinceramente per ora lasciamo questo qua poi vediamo come vanno le cose nel senso noi siamo aperti e se c'è qualcuno che indica suggerisce purché insomma ci sia un senso di responsabilità e nessuno pensi che l'ordinanza del sindaco per come vanno le istituzioni nel nostro paese il sindaco non è il coordinatore delle forze di polizia qui non può avere quell'ordinanza una funzione di accelerazione delle attività di prevenzione e di repressione dei reati perché quello compete compete ad altri poi noi diamo tutto il nostro contributo sono stato io domenica mattina presto ho chiamato il prefetto gli ho chiesto immediatamente di fare un comitato quindi non c'è nessun atteggiamento di de responsabilizzazione né di scaricare nell'altro campo io lo voglio ribadire anche con questa domanda che mi hai fatto il livello di cooperazione istituzionale a napoli davvero eccellente vi assicuro che non è così ovunque dove ci sta anche un impegno così forte del sindaco e dell'amministrazione davvero cooperiamo al massimo e su questo continueremo a dare io sono convinto che lavorando sodo col senso di responsabilità di tutti gli aspetti negativi della cosiddetta movida andranno a scemare anche se ci tengo a precisare quello è accaduto l'altra notte camo video non dire niente a che venire quella scena del crimine che poteva accadere anche fuori alla discoteca o fuori un altro a un altro posto quindi e mei se no sembra quasi che si scatina anche il panico che insomma bisogna stare anche su questo molto attento sotto la giornata inconscio comunale credo che sia stato fissato si lavorava dopo domani credo quindi comunque in settimana sicuro non lei non ritiene che sia un'emergenza nazionale insomma una morita napoli penso quello che ho detto prima c'è quello che accaduto l'altra notte per me molto grave attenzione molto grave perché si è sparato si è sparato in luogo affollato sembra che abbiano sparato persone molto giovani e quindi tutto come dire molto grave che non va sottovalutato ma non è un tema di criminalità comune che purtroppo riguarda napoli come altre città non vanno sottovalutate ma non bisogna manco usare parole eccessive